Eccoci di nuovo insieme. Da anno scorso abbiamo inaugurato una tradizione che speriamo di poter mantenere, cioè quella di introdurre all'interno dei nostri incontri delle esperienze, delle testimonianze di spiritualità, di vita, che vengono da più lontano, da paesi diversi dal nostro, proprio per sentirsi parte di un abbraccio più grande e anche per fare delle esplorazioni, delle scoperte. Ricorderete l'anno scorso è stato con noi Matthew Fox, è stato un incontro davvero bello. E nella nostra ricerca di personaggi, di figure, ne abbiamo scoperta una e abbiamo avuto voglia di ritrasmettervela. La voglio presentare con pochissime parole, quelle che ha usato per introdurla al pubblico italiano alcuni anni fa Michela Murgia in un suo articolo. Michela ha scritto, a proposito di questo personaggio, medico, teologa, politica indipendentista, femminista, monaca benedettina. Giuro che non me la sono inventata io. Teresa Furcades esiste davvero e la dovreste proprio conoscere. E noi abbiamo seguito il suo consiglio. Teresa Furcades. E qui Teresa anche perché ci ha aiutato tantissimo nel contatto, la persona che traduce i suoi libri in italiano e che quindi è il più diretto contatto con Teresa. Cristina Guarnieri. Cristina ci aiuterà, aiuterà Teresa quando non troverà la parola adatta, ma Teresa ha deciso che proverà a parlare in italiano. Solo per curiosità Teresa, tu quante lingue conosci? Io che cosa? Quante lingue conosci? Ah non lo so, non lo so. No, no, non di più. Io parlo il catalano, è la mia lingua, è il spagnolo, il castellano, dopo l'inglese, il tedesco e adesso l'italiano. Allora, prima di ascoltare Teresa, di entrare in contatto con quella che Michela Murgia definisce l'infrazione vivente di tutti gli stereotipi dell'immaginario collettivo sulle suole di clausura, vorrei capire dalla nostra amica Cristina che appunto ci ha consentito questo contatto che cos'è, non tanto alla scrittrice e alla traduttrice, ma alla persona, Cristina, che cos'è che ha colpito tanto di Teresa? Beh, a parte questo curriculum mostruoso per cui, appunto, teologa, femminista, medico, che combatte contro le industrie farmaceutiche, poi si impegna in politica per il processo costituente per l'indipendenza della Catalogna, insomma, una figura veramente eclettica. Però, se passiamo a un piano più intimo, mi ha colpito molto noi per realizzare il libro che abbiamo fatto assieme, un libro intervista intitolato Siamo tutti diversi per una teologia queer, pubblicato dalla casa editrice in cui io lavoro, Castelvecchi, e curato da me e da Roberta Trucco, che è la persona che mi ha fatto conoscere Teresa. La cosa che mi ha colpito di più è stato il dialogo avuto con lei per mesi per realizzare questo libro, perché soprattutto nei momenti in cui toccava una questione, che è la questione di chi siamo, cioè dell'identità di ciascuno di noi, parlava di un vuoto, cioè di un vuoto che ci abita, ma un vuoto in senso positivo, cioè un vuoto come possibilità d'essere, come possibilità di reinventarsi. E devo dire che in tutti i momenti in cui si toccava questo punto di questo spazio vuoto, al di là delle rappresentazioni che ognuno fa di se stesso, io come editrice, io come figlia, io come moglie, io come madre, Teresa come suora, come medico, come teologa, poi c'è uno spazio vuoto dentro ciascuno di noi e il modo in cui lei lo diceva mi ha sempre molto toccato, quindi alla fine di ogni conversazione restavo sempre con una intensità dentro di me e cercando di capire come si può essere appunto sempre nuovi, cioè non vivere la vita così in modo automatico, passivo, ma come ripensare anche quello che uno è a partire da questo spazio vuoto, quindi uno spazio che può essere tante cose e che si rinnova giorno dopo giorno. Questo è il tratto che pesco tra tante cose incredibili che la riguardano. Noi abbiamo pensato di sviluppare così questa mattinata insieme a Teresa e cioè di ascoltare il cammino della sua vita, cercare di toccare i punti salienti del suo percorso, del suo messaggio e poi in una seconda parte affidarci alle vostre domande. Quindi lo dico fin da ora, magari pensateci cosa vorreste chiedere a questa figura, anche vedendo quello che emergerà dalla nostra conversazione, proprio perché sia nella seconda parte del colloquio un dialogo tra voi e lei. Molto spesso ci viene richiesto questo spazio di confronto con i nostri ospiti, ma come vedete le giornate sono molto intense, spesso non c'è la possibilità, non c'è il tempo. Stamani invece lo abbiamo pensato e previsto. Una prima parte per conoscere Teresa e poi per rispondere alle vostre domande. E allora andiamo a cominciare, facciamola nascere questa ragazza in una famiglia, tu racconti in una famiglia atea, in cui però tu da sola hai fatto la scoperta del Vangelo, intorno racconti a 15 anni. È una scoperta che vivi subito con grande intensità perché addirittura decidi di celebrare un'eucaristia tutta da te sola, proprio te la costruisci da sola. Ecco, la prima domanda è, in una famiglia in cui non hai ricevuto un'educazione cattolica, che cosa ti ha colpito del messaggio del Vangelo? Qual è la cosa che ti ha toccato profondamente dentro? Prima però io devo dicere che non hai avuto un'educazione propriamente cattolica, ma io è stato battezzata. Non è che ero una famiglia, perché io ho adesso 51 anni e questo significa che quando io ho nascuto nella Spagna avevo Franco e questo è un nazionalcatolicismo e questa è una presenza della Chiesa Cattolica che era molto potente e molto imposante, non solamente questo, ma era una presenza della Chiesa Cattolica con la connivenzia, insieme con il dittatore, insieme con questo regime politico così oppressivo e criminale. La mia famiglia non si è d'accordo con questo. Non è che erano ateistici o in contrario alla Chiesa, ma hanno vissuto questa traizione. Che cosa dicono il Vangelo? Non lo sapevano bene, il mio padre e la mia madre non sono religiosi, questo è chiaro, ma cosa che era chiara è che la Chiesa Cattolica è con questo fascismo e questo non è buono. E la Chiesa Cattolica mi hanno detto è come la monarchia, una istituzione del passato che non ti deve preoccuparti, questo mi hanno detto. È anche presente, ma non è una cosa di futuro, quindi disapparerà, non preoccuparti e io non mi ho preoccupato. Io mi ricordo che come bambina siamo andati, tutta la famiglia, al battesimo, alla prima comunione di familiari, ma sempre abbiamo arrivato tardi e sempre alla fine della Chiesa e io mi ricordo di vedere la gente, è un passaggio e alla fine una cosa che passava, ma non ho avuto mai una curiosità per vedere, il mio padre e la madre erano fuori, fumavano, è finito, no, no, non è finito, era così. Ma cosa che è passato, il mio padre e la madre si hanno divorziato quando io avevo 11 anni e dopo il mio padre non poteva darnosi, io ho due sorelle e il mio padre non poteva darnosi soldi e la madre che è una infermera, sì, infermera, doveva lavorare tre lavori e quindi quando è stata l'età di andare per la scuola secondaria non voleva che, non poteva pagare una scuola privata, ma non voleva che la pubblica non gli piaceva, corto, è andato a una scuola di suore, sì, ma non avevano suore come professoressa nel liceo, questo io avevo già 14 anni e io non volevo andare con le suore ma fino è andato e era in questo ambiente che io ho avuto l'opportunità di leggere per la prima volta quando io avevo 15 anni il Vangelo e io mi ricordo bene che l'ho letto e alla fine di questa lettura io ho avuto un sentimento di irritazione e ho detto come io ho perduto 15 anni e nessuno mi ha detto che esisteva un dio come questo, questa è la mia esperienza e dopo io ho iniziato. Tu però non hai almeno sul momento pensato che la tua... Il mio padre posso dire, è una cosa che il mio padre è un po' poeta e lui faceva una poesia che in catalano, nella mia lingua, dice così, Deu meu, grazie, Deu meu, per ferma ateo e questo è grazie Dio mio per farmi ateo e io non lo capiva, io le diceva no, 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 questo non fa senso, se tu sei ateo non credi in Dio, come li parla Dio e come le dice Dio mio, questo non fa senso, non fa nessun senso e mio padre mi ha detto, ah tu lo capiscerai forse è andato un po' avanti e io adesso forse lo capisco perché io penso che naturalmente il nome che noi diamo, damo, questo vuoto, questo orizzonte di possibilità della nostra vita e del mondo, il nome non è necessariamente la cosa e frequentemente quando gli diamo il nome e cerchiamo di obiettivare, di fare questa esperienza di Dio con le parole, con le parole, con i concetti, con le istituzioni, è come una traizione, un tradimento, un tradimento è buono, io penso, e questa è la mia idea come teologa anche, io penso che Dio, non so che cosa pensate voi, ma io penso che Dio inspira qualche persona per essere atei, io penso, non atei di Dio Dio, perché questo non fa senso, ma atei in un senso storico che dicono il senso di vita è al di là di tutto che noi possiamo nominare, nombrare, sì? E io penso che questo non fa senso per me, che è possibile, questo non significa che tutti che sono atei sono ispirati di Dio, naturalmente, ma che è questa possibilità, perché io penso semplicemente se io ho nascuto come è vero in questo fascismo e io ho visto, che io non l'ho visto così crudamente, personalmente, ma un prete che fa la consagrazione della chiesa e parla con il dittatore e fa tutta questa cosa, noi siamo istorici, persone istorici, non si può fare come una magia, la mia storia è questa che io conto, ma fa senso per me che una persona può essere in questa situazione di dire io sono atea, ma questo può essere una ispirazione di Dio, io penso. Cominciamo a sfogliare un po' di capitoli nella tua biografia e troviamo i tuoi studi in medicina, quindi il desiderio di diventare medico, che è un desiderio che non si spengerà quando poi deciderai di andare in convento perché hai continuato a studiare, a specializzarti, sei stata addirittura ad Harvard, che significato ha? Come collochi ora nel tuo percorso di vita il bisogno di studiare medicina e anche quello che poi tu hai fatto, cioè di sviluppare questa forte battaglia contro le industrie farmaceutiche? Sì, io penso che la prima motivazione per la medicina non era di criticare, fare una critica del sistema medico, io non avevo nessuna idea che questo era così pervertito, corrupto. Così corrotto, pervertito. Perverto come sistema, forse ha molti medici in la sala oggi e io rispetto naturalmente il mio collega profondamente, ma come noi oggi facciamo la medicina, come questo sistema che è sempre più di privatizzato e non solamente la privatizzazione, ma la separazione tra la parte spirituale profonda della persona e la parte biologica, la, si può dire, biologizzazione della medicina e la commercializzazione. Ma di questo non sapeva nulla e quando io è stata motivata di fare la medicina era perché in tutto che io fai, anche la teologia, il femminismo, la politica, tutto io penso ha una stessa radice e questo è l'interesse per che cosa è l'umano, l'esperienza uana, che cosa è la persona, che cosa fa senso della vita e che cosa fa dolore nella vita, perché il senso e il dolore sono vicino. E per la medicina è molto chiaro che quando una persona, noi abbiamo tutti una presenza pubblica che può essere più completa o da di meno, ma questa è una dimensione e un'altra è come si sente la persona che è malalta e la caretta, la maschera, la maschera sociale non è di più. E nell'ospedale mi ha sempre molto colpito che ti trova la persona nuda, nuda fisicamente, frequentemente fisicamente, ma sempre nuda in un senso sociale e in un senso spirituale anche. E si può trovare una sorta di autenticità che mi ha sempre molto attratto. E anche io ho riflezionato come medica, sopra la vulnerabilità della persona e come la nostra cultura non ha un luogo per questa vulnerabilità e come se il desiderio, l'ideale sarebbe di essere sempre forte, di essere sempre fit in English, no? È sempre giovane soltanto. Ma questo è absurdo, umanamente. E mi ha colpito dopo il monastero che la regola del Benedetto diceva che è una benedizione per il monastero di avere monache malalti. Io ho pensato, ma no, io sono medica, io voglio di curare tutti. Ma io lo capisco anche perché i monache malalti, le persone malalti, fanno una funzione sociale fondamentale di ricordare a tutti che il senso della vita non è in questa potenza, non è in questa forse imposizione o in questa perfezione che non fa senso umano. Io non so se io mi splico, ma questo è molto importante. Accanto agli studi di medicina, poi tu affianchi quelli in teologia. E poi arrivano anni di inquietudine, li chiamerei così, che ti portano a fare la scelta del convento. Ecco, vorrei che tu ci traghettassi, ci accompagnassi attraverso questa tua fase che poi ti ha portato al convento. Va bene. L'italiano va bene? Perfetto. Ok, grazie. Questo è perché io ho andato al convento. Io ho detto già che quando io avevo 15 anni, ho letto l'Evangelo e dopo io volevo essere coerente con questa esperienza di attrazione e senso e io ho andato a una parrocchia e ho cominciato a studiare anche spiritualità, cristianesimo. Io stavo completamente integrata in questa parrocchia di una parte molto povera della città e il porto, sì, con l'immigrazione. Io ho fatto l'esperienza che la mia famiglia è molto umanistice e mi hanno parlato sempre di la solidarietà umana e mi hanno dato questo valore che io fino ad adesso ho. Ma la mia famiglia ha parlato di questo, ma non hanno fatto niente. E nella parrocchia lo hanno fatto. Hanno andato alla strada per trovare la gente che dormeva alla strada e abbiamo cominciato una iniziativa con il nome Radici che fino ad oggi è la più importante per accogliere la persona senza tetto in Barcellona. È una cosa interessante. Dopo di questo io era convinta che con il Vaticano II è il tempo dei laici e non è il tempo del prete e la nonne che, bene, va bene, prete e nonne, ma questo non è così centrale nella Chiesa. È il tempo dei laici che prendono una completa responsabilità per l'eclesiologia, che non è di più che i laici siano passivi, solamente attivi, sino le persone consecrate. E io, teoricamente, intellettualmente, era convinta di questo. Io volevo essere laici, laica. E con questo era tranquilla. Dopo ho studiato la medicina, come si ha detto, in Barcellona e anche negli Stati Uniti. Ho fatto la mia specialità di medicina interna. Ho lavorato in un ospedale. Ma negli Stati Uniti, quando si finisce questo studio, si deve fare un esamen che non è facile. È un esamen che dura due giorni con 500 domande. È un esamen grande. E io lo preparavano con gli altri negli Stati Uniti, ma volevano per l'ultimo mese fare un studio così approfondito e cercavano un luogo di tranquillità. E mi hanno detto, una conoscenza, può andare a Montserrat, al monastero del monache, gli uomini. Perché hanno, se lo conosce, una possibilità di stare. E io ho detto, bene, ho provato di farlo, ma gli uomini mi hanno detto che è tutto pleno. Era un giulio, giulio dell'anno 95. E mi hanno detto, il monache, gli uomini, ha provato la nonne. No, 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 io non voglio la nonne, ma io era già femminista, e io mi consideravo femminista, e io mi rendo conto che questa è una contraddizione. Come? Perché? Perché io ho pensato che le nonne sarebbero meno interessanti che l'uomo, uomini. Ma io l'ho pensato. E io aveva già riflessionato sulla donna e uomini, ma questa era una cosa spontanea. E ho pensato alla sua ore. Saranno intellettualmente... Si chiedeva perché le monache... Lei pensava, ma le monache saranno meno interessanti degli uomini. E poi, in quanto femminista, si è chiesta perché dovrebbero essere meno interessanti. Perché io ho questa idea? E per coerenza femminista. E pensate, tu devi andare alle suori. E io ho andato. Dopo, non lo spiego tutto, ma dopo di tre settimane, io dovevo stare un mese. Dopo di tre settimane, inesperatamente per me, quando le nonne, le monache, uscivano della chiesa, io ho esperimentato come una domanda interna. Più di una domanda era un sospiro. Un sospiro. Un sospiro interno che diceva, tipo, immagini di vivere così. Ti puoi immaginare di vivere così. O che bello sarebbe di vivere così. Una cosa, sì, ma troppo profonda. E io mi ha colpito. E io ho pensato, come vivere così? Tu non sai come vivere. Tu solamente vedi la chiesa, dentro e fuori, ma come vivono tutte le ore del giorno. E ha cominciato con questo una ricerca personale che mi ha colpito. Io, dopo di due giorni, alla battessa del monastero, mi ha riquesto di parlare alla comunità. e io ho pensato, questo è perché ha visto che io, ma no, non sapeva niente, ma ha pensato che io poteva parlare della sida. Sida? Della IDS. Perché io era medica e stava lavorando con la malattia infettiva. E io ho pensato, questa è un'opportunità per me di sapere se queste nonne, io posso vivere, monache, monache, monache. Io posso vivere... Nonne è la parola tedesca per monaca, perché lei nel frattempo vive in Germania. Ah, ok, ok. Io posso vivere con loro. E cosa che ho fatto è, io avevo un amico, e lo ho ancora, un amico omosessuale che aveva stato con me prima di andare al monastero e questo amico mi aveva esplicato che avevano un gruppo piccolo che per tanti anni avevano fatto un incontro con un prete che era anche omosessuale, ma non lo diceva pubblicamente, e hanno fatto un'eucaristia dove questo gruppo potevano parlare della sua omosessualità come una bendizione di Dio, non come una cosa che devia andare a... Sì, soppresa. Ma in questi anni, 95, in Barcellona era per la prima volta che questo gruppo avevano detto noi siamo cattolici e noi siamo omosessuali. Il mio amico mi aveva raccontato. Io pensavano, io lo voglio raccontare, non si deve parlare dell'omosessualità quando si parla del SIDA, si può naturalmente non farlo, ma si può anche farlo perché all'inizio era una connexione più forte, io l'ho fatto. E quindi è detto, è una... La mia esperienza come medica, la persona con SIDA frequentemente... ADS. Ah, ADS. Quando dice SIDA è ADS. ADS, ADS. Frequentemente ha un triple, tre livello di dolore. Un livello di dolore fisico, è ovvio, con l'infezione del virus no, ma con l'ADS è già una malattia, è un livello di dolore fisico. Dopo un livello di dolore psicologico perché allora, oggi forse non è la stessa cosa, ma allora era molte le famiglie che dicevano va di via o la coppia, perché era ancora, non si sapeva come così di forte l'infezione sarebbe e sono ribuggiato, hanno rifiutato della persona che li amano. E dopo un terzo livello, questo è un dolore spirituale, perché quando tu hai fede e hai questa fede a Dio, è una comunità di gente con la qual condivide questa fede e questa comunità non ti accetta come tu sei, questo è un dolore profondo. E io ho parlato così, io pensava, questa monache, monache, possono solamente dare tre risposte. Va bene, è lungo l'esplicazione, ma va bene di farla? Ok, solamente tre. La prima, la risposta dogmatica. Questo è, che dice la Chiesa, che dice il Magisterio, che dice il Papa dell'omosessualità, che è una cosa che non si deve discriminare, ma non è buona, non è volta di Dio e non si deve praticarla, non si deve fare l'atto sessuale e omosessuale. Quando la risposta va in questa linea di dogmatica, per me non era una cosa che mi riforcierebbe questo sentimento di essere insieme. Sì? Va bene? Se la risposta fosse stata questa da parte delle monache, lei non si sarebbe sentita intonata a entrare lì? La seconda è una risposta, l'altra estremo, positiva, di dire questo, e questa è la mia posizione, ma in questo monastero avevano le sorelle, le monache, che non erano più giovani. Adesso, dopo, è entrato molti altri, non solamente io, che erano giovani, ma sarebbe una cosa un po' artificiale per me. Non l'ho sentito come una cosa organicamente possibile in questo gruppo, di fare il sere... Sì? Sì, le sue aree erano talmente anziane che le sembrava un po' inverosimile, che potessero dire, uh, benissimo, viva gli omosessuali. Ma, e la terza era la cosa che io chiamava o nombrava la diplomazia vaticana, e questo è solamente di dire, io ho sentito del virus, io ho sentito della persona omosessuale, io ignoro la persona omosessuale, pregunto, domando solamente del virus, sì? E io ho pensato questa è la più probabile, ma a questo non mi piace anche. Io ho fatto questo e dopo la prima è stata una monaca di 92 anni, che dopo io è stata qui come medica nel monastero, l'hai guidato. Sì, lei si è presa cura di questa suora? E è morta con centi anni. Siete morta cent'anni. È molto interessante. Questa è stata la prima. E mi ha fatto la domanda, tu hai parlato del tuo amico Enrico, ma quante sono, quanti sono, quanti sono in questo gruppo, un gruppo grande, un gruppo piccolo? Io non aveva idea, io conosceva solamente il mio amico, ma, e poteva dirle, non lo so, ma io voleva dare una buona impressione, io lo so. E io ho detto, no, non così, grande, non così, non so, ma so meno. E ho dato una risposta che non era. Dopo la seconda domanda, era una sorella che era una monaca di 80 anni solamente, e ha detto, il tuo amico è un uomo, un maschio, ma in questo gruppo è solamente maschi o anche donna in questo gruppo? Io non sapeva, perché io solamente conoscevo il mio amico, ma anche, non è dito, non lo so, è dito, sì, 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 donna. Io non lo so, è fatto una risposta che mi ha sembrato logica, ma non lo sapeva. La terza pregunta ha detto che, perché io aveva detto che il mio amico era catechista in una parrocchia, ma non lo diceva che era omosessuale, perché se lo diceva era andato via della parrocchia e anche lì altri... Sarebbe stato cacciato. Sì, anche lì altri. Quindi questa sorella, la terza, mi ha domandato, ha detto che in la parrocchia non lo dicono, ma è una famiglia, possono parlare con il genitore, hermanos, hermanas, con i fratelli, con le sorelle. Possono parlare della loro esperienza e io non lo sapevo. E quindi per la terza domanda io è stata colpita profondamente perché io ho pensato, la cosa è così, io venneva a parlare con questa comunità di monache, come se io sono la persona della mente aperta, io sono la liberata, io sono questa che ha la ragione o la verità e io volevo sapere se le monache erano al mio livello. E quindi queste monache non hanno sentito che io parlo di un tema, l'omosessualità, ma hanno sentito che io parlo di persone che hanno difficoltà e hanno voluto fare la domanda per avere un senso concreto di un profilo umano, non un tema, non hanno sentito un tema. E io sono stata profondamente colpita di questo perché ho pensato, io vivo di tema in tema, io voglio imparare come si vive di persona in persona, non con teme, ma con persona. E io ho fatto la scelta. Che cosa significa Teresa essere una suora di clausura? Tu tra l'altro dici che è una dimensione di vita conventuale, tutti quanti la dovremmo sperimentare, hai detto una volta che dice che bisognerebbe fermarsi almeno cinque volte al giorno per chiedersi perché sono qui. La regola di Benedetto, Benedetto sì, è una regola del secolo VI, è una regola antica e parla della clausura, ma la clausura, devo dire pronto, che ha due tipi di clausura. Una clausura si chiama clausura papale e questa clausura è la più nuova, la più moderna e non è la clausura che io ho, le benedictine. Questa è una clausura imposata dall'alto, imposta dall'alto, dopo del concilio di Trento e imposta solamente alle donne. E questa è una forma di controllare alle donne nella chiesa, questo che io penso e molte donne pensano così e non è la clausura che noi abbiamo come benedictina. La clausura che noi abbiamo viene del basso, non dell'alto, di una comunità che dicono noi vogliamo vivere di una forma alternativa, per esempio con il silenzio e nel mondo non ha silenzio normalmente. Silenzio? Sì? Noi vogliamo vivere così e non solamente con il silenzio ma senza la proprietà privata, privata? Sì, proprietà privata individuale, ma tutto insieme. Questo si deve fare come un limite e quelli che vogliono vivere così possono entrare. Quello che non voglio vivere così perché se tu non vogli fare silenzio e vieni al nostro gruppo non ha silenzio per nessuno. Io magari faccio la comparativa con una playa nudista? Una spiaggia di nudisti? Con una playa di nudisti perché quando si vuole stare di questa maniera tranquillo si dicono questo solamente la gente che vuole stare nuda. Sì? Cioè qui può venire solo chi vuole stare nuda? Quindi è una clausura funzionale, non è un concetto teologico di andare separato degli altri, non è una cosa così mistica, è una cosa pratica che si vuole vivere di una forma alternativa. E nella regola del Benedetto del secolo VI è scritto che cosa deve farsi quando il monaco andrà fuori del monastero. È chiaro che andavano fuori ogni giorno ma si poteva farlo. È bello perché dicono, dice, che tutta la comunità deve benedire questo che andrà via, che questo che andrà via deve prendere una cappa un po' meglio che la normale perché normalmente nel monastero è vestirsi un po' meglio e che deve andare fuori per fare testimonianza di questo che si vive dentro. Quindi la mia clausura è una clausura costituzionale, non ne è papale. È questa clausura che io posso venire qui o posso andare all'università e fare un insegnamento se la mia comunità si hanno d'accordo. Non lo decido io isolatamente, individualmente, ma se la comunità si ha d'accordo, si fa senso, io posso fare questo anche altre cose. Questo è stato sempre il caso per gli uomini della Chiesa. Benedettino si conosce in Italia, naturalmente, hanno fatto, non tutti, ma si può fare e non è un problema di identità benedittina. Per la Duone è stato altro, ma questo non è un problema di religiosità profonda, ma un problema di sexismo ecclesiale. però vorrei che tu ci facessi respirare il profumo del vivere dentro il silenzio di un convento. Perché cosa è che ti ha tratto così tanto di questo silenzio, forse evocando il vuoto di cui parlava prima Cristina? Questo per me è stato molto difficile all'inizio perché io pensava di me che era una persona di preghiera, perché sempre che io andava a un convegno come questo nella Barcellona, un fino di settimana, o quando io pregava nella mia casa solitariamente, io avevo un senso di, oh questo è troppo corto? È troppo stretto? No, è stretto, corto, del tempo. Ah, è troppo breve. È troppo breve. E io pensava, ah sarebbe bello nel monastero, sarà bello che io ho cinque ore, per giorni, per fare la preghiera. Avrò cinque ore al giorno per pregare. Sì, ma la differenza è che a casa o al convegno io andava perché voleva e quando voleva, io pregava quando voleva, ma nel monastero è una campana, cling, 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 preghiera. E no, non è il senso, il sentito, il desiderio di preghiera, non è che io ho un interruttore, ti fa preghiera, non preghiera, preghiera. Non si può fare così. E dopo è stata un'esperienza frappante perché io dovevo, 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 dovevo pregare. Quando si dice adesso pregare, adesso no pregare. E io non potevo farlo. Io è stata nella cella, nella mia cella, cella? Che cosa? Non aveva il senso. E dopo è mezzo minuto. E doveva essere un'ora e mezza perché sono cinque ore, ma no, no tutte insieme. La mattina, mattines, mattines. Il mattutino. Il mattutino, dopo mezz'ora di preghiera individuale, dopo l'odi, dopo la messe, dopo lavoro, dopo la preghiera del mezzogiorno, dopo descanso, dopo provaglio, dopo vesperi, dopo questa ora e mezza di preghiera individuale. E in questa ora e mezza io avevo problemi. E anche, anche, mi hai dato conto, che se mi rendevo conto, che con questo io esperimentavo una violenza, violenza interna. Io avevo una violenza, avevo i miei fantasmi, i miei problemi. E con questo silenzio di ogni giorno, ogni giorno, io è stata obbligata a fare un rapporto con me, che era più profondo, che io stavo abituata, e io non lo sapeva. Io ho cominciato a preguntarmi, come stai? E questa non era una cosa spontanea per me. Io pregunto a te, Massimo, come stai? O come sta l'altro? Ma come sto io, se io non lo so? Ma non lo sapeva. E io non sapeva se stava tensa, se stava, come stava io. Io ho cominciato con una cosa che era, forse non una preghiera, ma era la mia preghiera, di prestare attenzione al mio corpo fisico, perché come medica anche questo è il corpo. Io ho sviluppato una cosa che mi hanno detto dopo, che ha un nome, e questo nome è focusing, ma io non lo sapeva, io l'ho fatto spontaneamente, di rendermi conti quali sentimenti io aveva e fare come immagine con questo, una immagine con colori. Focusing, in inglese, mettere a fuoco. Per esempio, io ho una bola rossa qui, l'estomaco, io ho questa cosa, è sviluppato spontaneamente e immediatamente questo senso di tedio, aburrimiento, di noia, è fuori. Immediatamente sono attivata, con questo che era autentico, era una preghiera, io non lo so, ma era una cosa autentica di rendermi conto del mio corpo e di come io stavo interiormente. E questo è stato un cammino per andare a trovare Dio di una forma più autentica per me, spontanea e più sorpresiva. Sorprendente. Sì, sorprendente. E oggi io penso che prima, io facevo una cosa che era, prima di andare a Dio, è come se tu invita a casa una persona importante, tu fai tutto pulito, tutto, sì, e solamente quando tutto è pulito la persona può venire. Ma un amico, un vero amico, te viene quando tu sei, no? Sina feitar. Senza, insomma, truccarti. Senza, no? Viene perché tu hai bisogno di questa amicizia. E con Dio, per me è stata una cosa un po' così, che io prima lo trattavo come una persona importante che deve essere accolta di un modo formale, e con questo monastero io ho imparato di essere aperta per Dio come io so. e questa è una liberazione per me. E ora entriamo in quegli ambiti per cui poi Teresa è un personaggio anche molto conosciuto, direi in tanti paesi, se andate su internet trovate contributi dappertutto, sulle sue posizioni molto forti, in termini, soprattutto per quanto riguarda l'etica, il ruolo della donna nella società e nella chiesa. Io ho trovato una frase tua che, secondo me, dice tutto. Per me fondamentale è la difesa dell'eguaglianza tra i generi e l'unicità dell'individuo. Quindi questa suora di clausura, nel momento in cui affronta le questioni della società, parte da questo presupposto. e di qui dipendono un po' tutte le sue posizioni appunto sul ruolo della donna, il suo femminismo di cui ora ci parlerà, sulle posizioni, ne ha già accennato, per quanto riguarda gli omosessuali, la sua posizione anche questa che ha destato tante discussioni in Spagna sulla depenalizzazione dell'aborto, e sui vari temi. Ora, io vorrei, poi magari questo sarà oggetto anche delle vostre domande, o uno degli oggetti delle vostre domande, vorrei capire appunto la sorgente del tuo femminismo e della tua teologia queer, come dicevamo prima, laddove queer spesso è identificato con la diversità sessuale, ecco, normalmente il termine usato per questo. Che cosa vuol dire essere femminista e che cosa vuol dire essere teologa queer? Ok. Per me oggi si parla di due femminismi, uno è il femminismo dell'igualanza, il femminismo dell'uguaglianza, l'uguaglianza, il femminismo della diversità, della differenza. Entrambi naturalmente considerano la donna come il stesso valore che l'uomini, non è una sottodipendenza, una sommissione, non è accettato di nessun femminismo, questo è chiaro, ma il femminismo dell'uguaglianza non vuole fare una differenza di genere che è normativa per tutti. Non dicono le duone sono così, l'uomo sono così, una donna deve essere trattata così, un uomo dell'altra forma. Non accetta una differenza normativa per le due. È il femminismo dell'uguaglianza. Ma il femminismo della differenza dicono che naturalmente ha una differenza essenziale di genere, il problema non è questo, il problema è che la differenza della duona si hanno considerato di meno dell'uomini. Questa è una semplicità. Il mio pensiero è così. Io penso che il femminismo dell'uguaglianza ha una cosa importante e il della differenza anche. Perché per me non è come dice il femminismo dell'uguaglianza, si va bene io parlo, non me lo dicono. Non è così che la differenza di genere entre uomini e donne è una cosa culturalmente costruita solamente. Naturalmente è culturalmente costruita, ma non solamente. Tutto lo umano è culturalmente costruito, inclusive la fame. No, no, la fame biologica, no. Perché la fame, quando io sono vissuta, nasciuta in una famiglia povera, io ho fame dopo di tre giorni di non mangiare. Io dico che io ho fame, io esperimento fame. Quando io ho vissuto, nasciuto in una famiglia ricca, io ho fame tre ore dopo di non mangiare. È una cosa fisica? Sì, certamente, ma è anche culturale. Tutto che è umano è anche culturale. Ma la fame non è solamente culturale, è anche una realtà biologica. Per me la differenza di genere non è solamente culturale. E all'inizio, e io forse lo posso esplicare un po', l'ho scritto, perché non è solamente culturale. Ma per me questa differenza, che non è solamente culturale, all'inizio della vita, per un ragazzo o una ragazza, come si concibe la subiettività di ciascuno, la società patriarcale fa di questo una normativa di vita, fino alla fine della vita. Io penso che questo è meglio cosa che dice il femminismo dell'igualanza. Non sono d'accordo che l'origine è culturale, e qui io sono d'accordo con il femminismo della differenza, che dicono, no, 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 questo non è solamente culturale, ma io non sono d'accordo che, perché io sono una donna e mi è soggettivato di questa forma femminile come una ragazza, io devo pensare la mia vita del futuro in un senso differente da te, che tu sei un uomini. Fa senso cosa che io dico? Quindi il futuro, io penso che lo define meglio, è il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù si trova con Nicodemo. È una conversazione che Nicodemo dice a Gesù, che cosa è il senso di vita, parlano, e Gesù le dice a Nicodemo, si deve nascere di nuovo, sì? La nascita di nuovo. E Nicodemo non lo capisce, e dicono, come può un uomo adulto andare di ritorno all'utero della madre, andare dentro della madre, ritornare e nascere di nuovo, e lo prende in un senso literale. Ma Gesù dice, no, no, non nascere di la madre, ma nascere dell'acqua e dell'espirito. Che cosa significa questo? Nascere dell'acqua e dell'espirito. E dice anche, è il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, quello che nasce dell'espirito, e l'espirito è come il vento. Non si sa di dove viene, non si sa a dove va, ma gli effetti siano molto chiari, sono effetti revitalizzanti, sì? Per me la teologia queer è questo, è nascere dell'acqua e dell'espirito. E' un progetto cristianizzante, cristificante, una teiosis, questa è una divinizzazione, della persona che si prende come possibile nella teologia cristiana. Agostino e tutti i patri della Chiesa hanno detto, Dio si è fatto uomo, perché l'uomo si può fare Dio. E per noi questo forse suona eretico o strano, ma no, non è una cosa che viene di fuori alla tradizione cristiana, è tutto il consenso della teologia patristica, è un axioma della teologia patristica nei primi secoli del cristianessimo, è ripetito una volta e un'altra volta. La divinizzazione, in greco, teiosi, Dio si è fatto uomo perché l'uomo e la donna si facciano Dio, ma Dio non in un senso di rivalità con Dio, ma si apre, no? La nostra tasca... Il nostro compito? Compito, compito. È un anglicismo spagnolizzato, quindi tradurlo è veramente... La nostra missione, il nostro compito. No, tasca è catalano. Il nostro compito, la nostra ambizione come umani è di aprirsi a questa forza del Spirito di Dio e quando noi facciamo così e accordo Gesù è una cosa radicale, è un nuovo nascere di nuovo e questo nascere di nuovo non ha la madre come riferimento. Quando noi abbiamo la madre come riferimento abbiamo un senso di dicotomia sessuale perché il bambino si pregunta se io sono come la madre, che è la mia referenza, il padre è anche molto importante, ma non è una situazione di simmetria. La madre, il padre, il bambino non è una simmetria. e alla prima, sei primi anni, è un rapporto particolare con la madre perché la madre ha avuto la gravidanza e non è il padre. Il padre ha un senso molto importante ma non è sostituto della madre, è un'altra funzione. Così, con la madre, il piccolo bambino si deve confrontare con questa prima soggettivazione e dire io sono come la madre quando io sono grande io avrò anche figli come la madre in me o no. E questo per me è più complicato ma per me è l'aspetto transculturale della dicotomia sessuale. Fa senso che io dico dicotomia che ha un binario che non è un continuum, che non è un binario, è questo o quello. è come la madre o no come la madre? Fa senso o no? La differenza tra il bambino e la bambina nel rapporto con la madre entrambi si chiederanno sono come mia madre? Partorirò dei figli? La risposta della bambina nel momento dello sviluppo infantile sarà dire sì, sarò anch'io e quella del maschio sarà evidentemente diversa. E questa è un'esperienza che non dipende della cultura. Questo si fa perché se pensiamo che la dicotomia sessuale, è una cosa culturale, perché in tutte le culture si trova? E perché in la cultura che hanno fatto già l'esperienza del femminismo, della liberazione, anche ha un problema, non è una cosa del passato, e viene sempre di più questo senso che ha una differenza e che questa differenza, per me io posso dire anche una cosa, che quando si fa questa differenziazione differenziazione con la madre, la bambina è un senso di continuità con la madre e il bambino non può avere il stesso senso di continuità perché ha questa conoscenza che io non sono una madre piccola, io sono un'altra cosa. E anche se il bambino lo prova, il bambino maschi, prova di dire io sono anche una madre, tutti, anche la madre dicono no, tu non sei come la madre, non sempre, ma piccoli bambini vogliono divestire come la madre o fare la stessa cosa con il pelo o usare cosa della madre e questo è il promoto della madre, è una cosa bella, quando il bambino maschi lo voglia fare questo è un problema, si capisce questo, è una differenza, ma questo fa che la prima soggettività di questo bambino quando è una ragazza, quando è una femminile, è una soggettività primaria, si chiama incontinuità, io imparo che essere io, veramente, quando mi separo della madre, io mi separo ma continuo in un contatto di continuità, perché io non sono uno con te, la madre, ma io sono come te e per me come donna la mia soggettività primaria, la mia soggettività infantile è una soggettività che non si sente menasciata della continuità emozionale, si sente bene con la continuità, non è oh tu pensa così io anche, oh tu fa così io anche, oh bene, le ragazze che vanno insieme al lavabo, alla toilette, al bagno, questo è per uomini, è una cosa stragna, tu voglia andare, va, ma non insieme alla toilette, sì, come un esempio, per il ragazzo anche, non è una continuità, questa prima soggettività è una soggettività per discontinuità e dopo quando l'uomo adulto non è maturo, maturo, si può sentire menassato per una continuità emozionale più forte con una donna, fa senso questo? No, ok, lo può rendere così con un altro, un esempio più vivo di questo, questo è tanti anni fa, pochi anni fa, hanno avuto una commerciale, un annunzio, c'era un annuncio, un annuncio, è una televisione britannica, che le femministe britanniche hanno, hanno criticato, hanno stato completamente incontro e questo era così, e l'annunzio era una princesa, una principessa, di rosa, vestita di rosa, in un prado verde, su un prado verde, e camminava con un piccolo rio, che camminava attraverso un piccolo fiume, un fiume, e ha trovato un rospo, si, ha incontrato un rospo, rospo, e questo è l'immaginario del conte infantili, e dopo, ha fatto un po' e ha baciato, e nel momento che li ha baciato, ha diventato un principe, e poi lui è diventato un principe, un po' alto, più alto di lei, e dopo il principe l'ha mirato con desiderio, l'ha approcciato, il principe l'ha guardata con desiderio, l'ha abbracciata, e l'ha baciato, e quando l'ha baciato, la princesa si è tornata una lata di cervesa, e lei quando l'ha ribaciato, lei è diventata una lattina di birra, si, e questo era per le femministe britanniche, è la terribile cosa, perché questo è come la donna, le femministe britanniche hanno reagito male, ma il punto che io volevo fare con tutta questa subgettivazione e tutto è, nella società patriarcale si dicono che la coppia ideale è il principe e la princesa, una sorta di femminità estereotipata e una mascolinità estereotipata, ma questa coppia principe e princesa non esiste, cosa che esiste nella realità della patriarchia, della società patriarcale è la princesa con il sapo, si? il sapo, come è il sapo? il rospo, il rospo, la princesa con il rospo e il principe con la latina di birra, questo che cosa significa? che nella società patriarcale le donne sono meno, considerate meno dell'uomini socialmente, meno prestigio, ma la stessa società patriarcale dicono, le donne dicono, gli uomini sono come bambini, si dice in italiano? L'uomini, questo deve farlo, noi dobbiamo pensare da questo, come si dicono nella società patriarcale gli uomini sono bambini, non sono bambini, sono le forti, sono le importanti, sono le, ma come che la mirada della femminità estereotipica patriarcale sulla mascolinità è una mirada che dicene tu non hai valore per te stesso, ma io ti faccio, io ti faccio un principe, sì, è chiaro questo? È una cosa che la mia nonna mi ha detto a me quando io era piccola, gli uomini devono andare contenti, satisfezzi e ingannati. La nonna ripeteva, vabbè l'avete capito, andare contenti, soddisfatti e ingannati. Non era una mala donna, ma questo nella mia cultura è una cosa normale, che per esempio tutte le statistiche dicono che una donna adulta normalmente ha un'altra donna come la confidente emozionale, non ha un uomo, non si fida di un altro uomo. Fa senso cosa che io dico? Non si, questo, ma l'uomo si può dire anche un uomo ha... Fa senso significa anche da asco. Ah, no, asco no, capite. Ma l'uomo non ha normalmente, io non lo so tutti chi sono qui, ma normalmente non ha un uomo in una società patriarcale. Io non penso che uomo e donna non si può parlare come igualanza. Al contrario, io penso questo è il nostro compito, la nostra missione è cosa che è possibile naturalmente, ma è importante per me di riflettere che cosa si trova nella realtà. In realtà la donna ha un'altra donna, un'amica, e forse la madre, anche se è una donna adulta, e forse una figlia, ma un'altra donna, come quella che si ha fiducia, che ti sostiene emozionalmente, ma per un uomo non è un altro uomo che le sostiene emozionalmente, ma è una donna, ma frequentemente non la sua donna. No, è così, è così, è un'altra. Quindi mi pare di capire, non possiamo naturalmente approfondire, però c'è un bisogno di una rilettura profonda dei nostri ruoli, sia quello all'interno della tua teologia, sia di quello femminile, sia di quello maschile. Io volevo chiedere solo un attimo a Cristina, che ha avuto modo di conoscere molto, quali sono, proprio per titoli, alcune delle posizioni che, ne ho citate alcune prima, magari poi le verificheremo, sulle quali, del pensiero, diciamo, di ciò che produce questo pensiero sul ruolo della donna sulla teologia queer, che poi hanno avuto anche un grosso risalto, diciamo, anche pubblico. Ne possiamo citare alcune delle posizioni di Teresa? rispetto, scusa, rispetto all'uguaglianza, per esempio, all'interno della chiesa. Beh, insomma, questo ne parla forse meglio Teresa. No, naturalmente, però ecco, le cose che ti hanno colpito, più caldo, delle sue posizioni più forti. Sì, diciamo, beh, forse sarebbe interessante sentire da Teresa il modo in cui lei argomenta la questione dell'aborto, perché quello è un tema estremamente delicato, in cui Teresa si è schierata a favore della depenalizzazione dell'aborto, il che spesso viene frainteso, no? Perché sembra una posizione a favore dell'atto in sé di abortire, mentre sono due questioni distinte, e la potenza di Teresa è una potenza anche molto, dal mio punto di vista, argomentativa, cioè il modo in cui lei sostiene le sue tesi e cerca sempre un modo di argomentarle, in questo caso per esempio si è trovata poi con una lettera che le è arrivata dal Vaticano in cui le si chiedeva di rettificare, questo io le chiederei di raccontare. Ok, adesso appunto entreremo più nel merito, tra l'altro chiedo a Francesca di avvicinarsi, perché si entra nella fase un po' delle vostre domande, però prima di questo, prima di questo e prima di entrare appunto nello specifico di alcune sue posizioni, io ho trovato una cosa che ci permette un po' di alleggerire, ho scoperto che non è vero quello che tu dici che non hai incontrato ancora il Papa, non è vero, perché io ho trovato che invece il Papa tu lo ha, ecco questo è il libro della conversazione con Cristina e Roberta Trucco che qui non è presente ma è l'altra cura del libro insieme a me ok e invece qui vi faccio vedere a sorpresa anche per Teresa il suo incontro col Papa oh, piquen, che strany no esperava ningú a qui a qui a qui questo è un video di satira che hanno fatto in Catalogna oh, piquen, oh, mira però non mi digas che estás con los indignados con los motivos que te da la iglesia para indignarte y tener que buscarlo fuera era un modo per giocare io non lo so perché questa cosa perché questa cosa di fare di fare humor di se stesso io penso che è una buona cosa ok prima di darvi la parola dobbiamo però almeno dire due cose perché mancano per completezza diciamo di presentazione lo hai accennato ora sul tuo impegno politico e perché c'è anche questo molto importante qui vediamo l'ultima manifestazione molto grande che c'è stata nel tuo paese tu hai fondato anche un movimento politico per l'indipendenza della Catalogna il primo ottobre ci sarà il referendum c'è una grande situazione di criticità in Spagna tra il governo centrale e appunto questo paese che vuole capire se vuole davvero questa indipendenza ecco io quello che ti chiederei vorrei capire come si inserisce questa battaglia per cui tu hai ottenuto anche una dispensa in questo periodo per poterci lavorare a fondo sul tuo percorso complessivo spirituale personale sì perché se si dice direttamente un movimento per la indipendenza si si perde si perde la cosa che il movimento è per il processo costituente e questo è un processo costituente si capisce che cosa processo costituente processo costituente popolare questo è che mi preoccupa davvero questo è come si fa nel ventiunesimo secolo per vivere insieme di un modo che rende la parola democrazia con contenuto noi parliamo di democrazia ma sempre di più la gente si è disaffezionata di separata del potere politico e non lo sente come proprio questo è un problema non la Catalogna è un problema tutti che cosa come è possibile non siamo in una dittatura non è Franco nella Spagna non è Mussolini qui non è un fascismo è una democrazia e questo ha costato molta sangue e molto 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 travaglio per farlo ma oggi abbiamo democrazia e che cosa passa che cosa è sbagliata perché abbiamo un mondo dove la inegualezza cresce l'inuguaglianza ineguaglianza perché abbiamo un mondo dove un 1% ha di più che tutte le resti questo è un grado oggi di ineguaglianza che non è compatibile con la democrazia e questo non lo dico io lo dicono come Thomas Piketty che è un economista non precisamente dell'estrema sinistra ma questo lo dice Stiglitz che è un Joseph Stiglitz un economista con il premio Nobel di economia come è passato questo e che cosa si può fare perché questo è drammatico per esempio questo che è passato con i banchi con le banche le banche la Spagna è il 70% del dinero del soldi che hanno stato dati al banchi non ritornerà ma perché no i banchi adesso hanno beneficio sì perché non lo ritornano per la scuola perché hanno fatto un ricordo perché secondo te l'autonomia può dare una risposta a queste problematiche sociali quindi la indipendenza della Catalogna è una una soluzione sicura per questo no naturalmente no si può avere una Catalogna indipendente che ha gli stessi problemi ma ma e questo è il punto il processo di indipendenza ha bisogno di un processo costituente e questo è un'opportunità è un'opportunità di discutere a fondo e senza un marco legale previo questa questione di convivenza sociale come vogliamo il nostro vogliamo sì come vogliamo in la Catalogna di condivere e come possiamo perché non è che noi possiamo fare tutto che vogliamo come una isolazione no non è possibile ma una discussione io trovo è molto importante non lasciare passare questa opportunità perché non vedo un'altra un'altra chance un'altra opportunità di fare così un debattito pubblico così approfondito è già cominciato nella Catalogna questo che si vede di un milione di persone alla strada questo non è non è così normale è stato per cinque anni già e questo era un'opportunità cinque anni fa e è ancora un'opportunità di più adesso ma io non so come finirò io non so se saremo indipendenti saremo saremo indipendenti o no e se lo siamo si sarà con una maggiore più grande giustizia sociale e con una riorganizzazione dell'economia per esempio si può in la Catalogna fare una nazionalizzazione di tutto non si può io penso non si può ma si può fare una cosa che Jeremy Corbyn ha già detto per la Britannia e se Jeremy Corbyn il leader del laboralismo britannico aveva vinciuto a Teresa May la candidata conservatrice aveva vinto la May lo aveva fatto e si può fare anche l'Italia anche la Spagna o la Catalogna e che cosa è questo? è una legge che dicono quando una impressa deve cambiare di mani perché è fallita o perché la vuole vendere la prima opzione di compra deve essere sempre per il laboratorio organizzato in cooperativa questo è la prima ma come come si può pagare questo perché il lavoratore si il lavoratore lavoratore organizzato in cooperativa non hanno soldi per comprare la impresa ok la seconda parte di questa legge l'estato darò il dinero alla cooperativa per fare questa compra con il provviso seguente questo è se questo gruppo questa cooperativa fanno avanti va avanti e ha beneficio di una forma raunabile e senza interesse li ritorna l'estato perché quindi può darlo per un altro ma se la cosa non è riusciuta se non riesce questo non deve ritornarlo perché l'estato anche deve pagare tutto il seguro di desempleo si l'assicurazione degli impiegati quindi l'estato deve pagare del stesso modo ma in un modo è un pagare che fa possibile di immaginare una trasformazione vera trasformazione dell'economia e l'altro modo è solamente un pago di desempleo si sta clara pagare la disoccupazione questo perché è tan importante per me perché è fattibile lo ha detto Corbyn che è una persona che è stato in campagna e lo ha detto un altro economista degli Stati Uniti questo è Richard Wolff che ha parlato di questo questo è possibile di farlo ma si bisogna la volontà politica ma per me è specialmente importante perché io penso che la società capitalista noi siamo abituati di guardare all'altro come una menazza è un'antropologia della contraffiducia della diffidenza è un'antropologia dell'individualismo e come si fa di un'antropologia dell'individualismo come si passa un'antropologia della solidarità un'antropologia della fiducia che io penso noi abbiamo questi occhi per riguardare l'altro come una aiuta come un rivale questo non si fa così questo deve avere un cammino per farlo e quando l'estato ti dà questa possibilità di fare un esperimento che non può riscere male è come il contrario del banchi il banchi il contrario delle banche sappiano che può fare un rischio un'operazione di rischio perché se non va bene come il riscatto dell'estato così è facile di fare una cosa rischiosa io voglio che la cosa è invertita che il banco deve sapere che si fa un rischio non si riscatta ma la gente deve sapere che se si rischiano con una cooperativa si riscatta questo questo io penso è molto importante è molto concreto e si può fare io desidero di aiutare il mio paese la Catalogna per fare un'economia così avete sicuramente percepito la vastità di orizzonti che ci vorrebbero giorni interi per esplorare insieme a Teresa però prendiamo questa opportunità di interpellarla sulle questioni che vi stanno più a cuore Francesca dove è? eccola qua se ci sono appunto delle domande per lei eccola giù Francesca buongiorno due domande che afferiscono diciamo così almeno per l'impressione che ho ricevuto dal tuo racconto due ambiti quello della suora di clausura e quello della politica impegnata la prima io da non credente lavoravo in comune una suora di clausura che era l'unica abilitata a venire da noi allo sportello per fare le carte di identità all'epoca facevo questo gli domandai ma che senso ha una suora di clausura mi rispose indicando un maglione molto colorato che portavo questa suora mi disse vedi tutto quello che vediamo è il frutto di luci ed ombre e dalle luci ed ombre deriva questa meraviglia dei colori noi siamo le ombre la domanda è si riconosce o cosa pensa rispetto a questo anche se la clausura che ha raccontato non è la stessa della suora con cui io parlai alla politica impegnata nella lotta indipendentista l'impressione io mi sento europeo vorrei dire anzi mondiale odio i muri forse sono un claustrofobico non lo so ho un senso di disagio in questo momento in questa nazione con quello che sta succedendo con quello che sento dire con la rabbia il razzismo l'indipendentismo ho letto sul giornale su un giornale online poco tempo fa che se si realizzassero tutti gli indipendentismi in Europa solamente avremmo una realtà quasi medievale delle città che poi si facevano guerra da una corlina all'altra ecco non ho grandi idee su questo non ho idee formate però ne viene un dubbio che queste forme di indipendentismo invece che impegnarsi in un discorso globale l'esempio che lei ha fatto di solidare al basso quella la condivido pienamente non ne viene in mente che l'indipendentismo divide rende più animose le comunità non le avvicina ecco è un dubbio che volevo porle grazie grazie sì entrambi io penso siano molto si sente bene sì la prima questa di la luce e la ombra io penso che la mia attività è una eccezione nella vita monastica e io la capiscono così e la mia sorella la capiscono così è stata sempre eccezione nella vita monastica in tutte le vite ma cosa che ha descritto della ombre e la luce io non lo sapevo ma è bello è molto bello e fa senso si capisce perché un'altra che io sapevo è Radcliffe Radcliffe ha detto che le monache anche uomini che fanno questa vita monacale sono come la gente che aspettano l'autobus sì che solamente aspettano ma gli altri sappiavano sì che l'autobus vendrà perché uno sta aspettando non fa niente ma fa un signo fa una testimonianza io posso fare cosa che io faccio perché le altre sorelle non fanno questa vita e io esperimento che questa mescolanza di luce ombra o di pubblicamente e riservatamente questo silenzio e parola questo è essenziale di avere un dinamismo ma è buono che ha escezione nella vita monastica io non lo so non faccio una teoria io seguo cosa che io nella mia preghiera capiscono e anche lo dibattito con la mia sorella io ti do un esempio di questo quando io volevo fare questa decisione di fare un impegno politico più forte io l'ho domandato e doveva essere discusso nella comunità questa stessa sera che io ho andato a fare questa riunione con la mia sorella una della sorella mi ha detto oh Teresa mi sape tanti mali cosa che ha passato io non sapevo cosa che ha passato e cosa che ha passato è che io ho un albero albero un albero arbol che mi è stato dato quando ho fatto il mio voti nel 2000 perché io ho entrato al monastero venti anni fa questo è 997 ma tre anni dopo ho fatto la mia prima volta il voti e mi hanno regalato un albero un olivo un olivo e questo ha cresciuto con me nel monastero perché prima non faceva niente io stavo anche in crisi quando è fatto l'altro voti ha fatto il primo olivi è un rapporto intenso questo giorno che io doveva fare questa riunione con gli altri un pino pino sì un pino grande il giardiniero aveva fatto una cosa con il pino e una parte del pino è caduta l'olivo e l'olivo è completamente alla metà completamente io ho stato molto colpita di questo questo è un segnale ma che cosa significa che questo è un finale e che cosa è io come medica ho fatto come un gesso come è? un gesso sì che è un albero ma il giardiniero mi ha detto no non si salva perché gli ongos hanno entrato tutti dentro ma io ho fatto cosa che poteva perché io non volevo che questo albero è finito è come la mia vita monastica è finita o io ho fatto cosa di falso di sbagliato io ho fatto questo e dopo di un anno questo vive e questa è una cosa straordinaria ma non solamente vive ma è rimasto separato no non è che sia tornato a giuntare è rimasto spaccato è rimasto separato io lo devo di ligare con una corda se no è completamente così si apre ma una parte l'altra parte le due parti hanno fatto olive hanno fatto il frutto che cosa significa io non lo so ma la mia vita non è una teoria non è una cosa per esempio per gli altri è una ricerca personale di autenticità come io sono autentica con la mia vita mi ha chiamato Gesù di entrare in questo monastero mi ha chiamato per fare cosa che io faccio io penso di sì se non lo pensara non lo facereva e la mia sorella pensano di sì anche io non posso dire di più di questo questa è la prima e per il secondo con la indipendenza Hannah Arendt che è una filosofa politica ha scritto un libro l'origine del totalitarismo in questo libro dicono una cosa che per me è molto importante citano citano cita cita a Marcel Proust scrittore che cita Shakespeare quando dicono to be or not to be ser o no ser essere o non essere questa è la questione ma Marcel Proust e Hannah Arendt dicono no la questione non è essere o non essere la questione è pertenecer appartenere appartenere o non appartenere questa è la vera esistenziale questione umana Marcel Proust lo sapeva perché era omosessuale che cosa è non appartenere e per appartenere facere vedere che è un'altra cosa che si è e Hannah Arendt lo sapeva perché era giova era ebrea presa la nazionalità Alemagna e gli Stati Uniti è accettata ma senza la nazionalità per 14 anni è rimasta senza nazionalità quindi che cosa come si costruisce l'appartenenza questa è una pregunta molto importante per superare perché Hannah Arendt dicono prima di opprimere prima di opprimere di eliminare la libertà una umana il totalitarismo deve fare un'altra cosa e questa cosa è isolare l'individuo quando l'individuo si sente isolato si sente che il riferimento è esteso non si sente popolo con gli altri e questo si può chaffare totalitariamente bene queste sono parole ma che cosa fa che io mi sento popolo che io mi sento che appartengo naturalmente per me l'appartenenza ha direttamente con questa idea che io posso come persona crescere che io ho opportunità di spiegarmi come persona posso spiegare me stessa come persona svilupparmi ma la il tamaño la misura la misura di una società dove io voglio essere veramente democratica quando la decisione si prende sopra una montagna della Catalogna io ho visto questa montagna io amo questa montagna io ho stato in questa montagna io ho un senso personale di se io voglio la cosa che si può fare un tunnel per esempio o no io ho un rapporto diretto quando si parla di una montagna che io non ho visto mai come si fa la democrazia come si mi pregunta me che cosa penso come può avere un pensamento autentico personale di una cosa che non ho sperimentato la piccolezza noi abbiamo un senso di globalizzazione che è più grande è meglio e che è più cosmopolita senza senza barriere sì senza barriere e il senso di umanità come fraternità naturalmente per me è essenziale come cristiana come umanista come schierdas come tutto ma questo non è per me una dicotomia tra una comunità piccola e la grande comunità ma la sola maniera che io umanamente può condividere con la grande umanità è con il radicamento in una piccola comunità non un radicamento xenofobo naturalmente no non un radicamento violento naturalmente no non un radicamento giovinista che siamo meglio siamo no e anche no un radicamento essenzialista il catalano siamo che siamo io non lo so siamo una mescolenza e tu sei invitato di venire con noi se tu vogli ma questo senso di comunità che ha una misura umana mi sembra la unica risposta al xenofobismo nazionalista di diritto che sta crescendo nell'Europa e che non si para con un cosmopolitismo che non ha una radice nell'esperienza della persona mi hai esplicato con la chiaro per me questo per esempio dove il capitalismo è stato è stato per esempio in Islandia hanno detto la gente di Islandia hanno detto no alla imposizione della troica io penso che hanno avuto la forza di dire no perché avevano la fiducia e oggi Islandia non è una marabella perché questa nuova costituzione non è nella pratica non dico che Islandia è un paradiso non lo è ma hanno detto no alla imposizione di austerità della troica europea e lo hanno detto perché avevano un senso di fiducia con l'altro e questo ha qualche cosa di relazione con la lingua e ha qualche cosa di relazione con un senso di cultura di storia che non può essere chiuso ma non può essere ignorato non si può dire ah questo è uguale noi parliamo tutti inglesi e questo è il futuro non mi piace questo futuro io vedo in una pagina web che si parla del problema ecologico e io vedo che tu si può leggere questa pagina e quando è finito 22 specie animali si hanno finita si hanno esterminata questo è un problema ecologico e per me come medica biologa anche è un'idea di si comprime si fa meno la diversità biologica e questo è un problema per il nostro futuro come specie ma culturalmente anche quando 50% della lingua e del mondo sono oggi minacciata di disapere questo non mi piace io penso io vado oggi a Viena e io vedo la stessa cosa che in Barcellona la stessa cosa che in New York la stessa cosa le stesse commercio Starbucks questo non mi piace io penso che è un problema per il nostro futuro umanistico come la biologia diversa è necessaria si bisogna di questo per un futuro biologico si bisogna di una diversità culturale e la diversità culturale è una cosa che per me deve essere pensata come un tesoro una cosa buona naturalmente con la pericolo di chiusura ma io non voglio la chiusura ma io voglio una diversità reale e la diversità reale si fa in una comunità che la la valora e la la sente come propria e questo è l'Europa non dello Stato indipendente chi se pelea con l'altro si combattono gli uni con gli altri ma una cosa che si chiama l'Europa del popolo l'Europa della regione non l'Estatto è imposato dall'alto sempre con la violenza da sotto emerge un senso di pertinenza che è sempre dinamico sempre mescolanza ma che deve essere io penso deve trovare nel secolo XXI una forma politica propria e non è l'Estatto tradizionale l'Estatto nazione questo non mi piace anche no ma non è una supranazionalità europea una cosa grande che io non so che posso dire della persona che è politico perché non lo conosco e che cosa posso dire della decisione che si prendono perché non non lo capisco non la capisco c'era una domanda Cristina voleva aggiungere qualcosa sì volevo dire appunto al signore che ha detto che per esempio anch'io io mi sono sempre sentita cosmopolita eccetera e per esempio uno dei libri che ho più amato è Il mondo di ieri di Stefan Zweig dove questo scrittore che vive tutta la fine della Felix Austria cioè questo momento dell'impero austro-ungarico che si esaurisce insomma cambia il mondo davanti ai suoi occhi e racconta il mondo di ieri dicendo noi prima viaggiavamo senza controlli senza dogane senza presentare documenti e c'era questa libera circolazione del pensiero delle culture e appunto io oggi oggi che i controlli per via del terrorismo sono ancora più uno viaggia chiunque di noi viaggia si ritrova a fare a passare tantissimo tempo e quando ho ascoltato per la prima volta la posizione di Teresa anch'io come prima reazione ho avuto l'istinto di dire vabbè insomma parlare di indipendentismo in questo modo in un'epoca così globale sembra appunto un modo di incentivare i muri e mi ha molto colpito perché infatti c'è tutto un capitolo del libro siamo tutti diversi dedicato alle sue posizioni politiche eccetera e credo che sia un pensiero che vada un po' approfondito nel senso che c'è anche una complessità nel pensiero di Teresa perché parlare di questo senso dell'identità tanto più forte è il senso dell'appartenenza tanto più in modo apparentemente paradossale una persona può essere veramente solidale perché come faceva l'esempio lei il monte cioè se quella strada ti è cara e se quel monte ti è caro senz'altro le decisioni io per esempio aggiungerei un tema il voto degli italiani all'estero cioè io ho una sorella all'estero e ci discuto perché dico tu voti ha votato con noscialanza Berlusconi ora al di là delle posizioni politiche che ognuno di noi può avere ma dicevo ma tu voti ma le conseguenze le paghiamo noi però cioè voti senza cognizione del territorio di quello che accade quindi questi sono comunque temi delicati la posizione di Teresa è molto interessante perché è come se abitasse uno simoro cioè quello che cercavo di dire prima tanto più è come dire nella vita esistenziale di ognuno tanto più amo me stessa tanto più so chi sono e tanto più posso poi indirizzare l'amore verso qualcun altro no? e quindi sembra un dissidio non lo è e volevo dire che la la cosa più pericolosa penso io è la politica ma anche forse nella spiritualità è questa idea di individualità con riferimento a se stesso io volevo dire anche alla fine una parola sulla mia la mia tese doctorale e della trinità e che cosa è per me questa trinità eh sperimentata ma l'idea di individualità come come si fa di non avere il proprio interesse individuale come riferimento della mia la mia decisione come ah ok io posso avere della famiglia ma la famiglia è anche troppo piccola come si fa il collegamento con gli altri che cosa lo costituiscono sì il collegamento la nazione con tutta l'ambiguità la religione hanno stato i grandi temi della diritta no? la diritta politica ma la 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 schierda la sinistra la sinistra ha voluto di andare via della religione della nazione come cosa reazionaria cosa che fanno che la gente si riferisce tribalisticamente all'altro è la guerra hanno stato guerra di religione guerra di nazione non vogliamo guerra non vogliamo religione non vogliamo nazione ma questo per me e se mi permettono la comparanza sarebbe come dire non vogliamo violenza di genero non abbiamo sesso non è lo stesso naturalmente senza sessualità non ha violenza di genero nel senso di passionale ma naturalmente non avere sessualità non è una risposta per me è vero che la nazionalità o questo senso di pertinenza è stato nella storia e può essere oggi legato alla violenza anche la religione è meglio che disapira disapira la religione perché ha anche un fattore di divisione alla storia è un fattore lui ha detto già che non è credente e forse questa è la sua posizione ma io penso che la storia ha esperimentato momenti di vera incarnazione di questo ideal che non è ridotto all'interesse personale che non è ridotto all'individuo che è una vera festa quando si viene per esempio a questo convegno non tutto pensano uguale ma è una presenza di religiosità viva così e si prega e quando questo passa è anche un senso di colliganza con gli altri e questo non è facile perché può andare con violenza può andare con tribalismo ma io non penso che eliminare questo è un'opzione umanamente è un'opzione che fa sicura un futuro meglio io penso che quando si è approvato nella storia si fa una diumanizzazione quando questo si prova di fare in una società un'altra cosa è l'individuo che fa una via personale eccoci si può alzare così ti vediamo sono Mariella ciao Teresa ci sono tanti argomenti volevo restare un po' nel piccolo farti due domande soprattutto a te come medico qui in Italia abbiamo avuto recentemente una legge sulle vaccinazioni restando fermo il fatto che la vaccinazione è un grande aiuto per l'umanità mi chiedevo e lo chiedo anche a te se questa legge è fatta per la salute dei bambini o per il vantaggio delle multinazionali che producono i vaccini e poi un altro argomento sempre a te medico dell'eutanasia che ogni tanto salta fuori se l'eutanasia è stata anche un po' amplificata dall'accanimento terapeutico grazie va bene questi sono temi che io sono non molto felice di trattare con piccole parole perché si deve fare con tutta calma ma una parola che io posso dire è molto chiaro che oggi la investigazione la ricerca la ricerca farmaceutica non è controllata da fuori non è è controllata della stessa industria e questo è un problema gravissimo non solamente per il vaccino è un problema gravissimo di tutta la medicina e è stato io ricomendo per non fare un trattamento superficiale per esempio il libro di Peter Goetze non so se lo conosce consiglia questo libro un epidemiologo danese della Dinamarca che è riconosciuto non solamente di la parte medica del margine ma è riconosciuto di tutti è stato recentemente in Londres con la British Medical Association che è la British Medical Association è la unione di medici di doktore più importante di Britannia di Inglaterra e donna donna ogni anno dona un premio a un libro di medicina che è il meglio libro di medicina e l'anno all'anno 2014 lo ha dato a questo Peter Goetze che denunzia di una forma bravissima è chiarissima è molto espeluznante è espantabile quale è la realità quindi mi pare molto importante denunziare questo e se non facciamo un cambiamento radicale come si controlla la ricerca farmaceutica non si può fare obbligatorio nessuna medicina anche le vaccine no perché con questa vaccina ha avuto un gruppo di ricercatori di Milano mi sembra ma sicuro italiani che hanno dimostrato che la vaccina ha piccola componente di metallico che non deve essere più ma questo lo trovano facile nelle internete e questo si fa una volta si ingetta una volta non è grandamente pericoloso ma oggi i bambini hanno 32 iniezioni non 32 vaccino ma 32 dosi e ogni volta questo viene con la vaccina con il vaccino e questo non si sa che cosa fa e i bambini sono più malalti io non dico che viene del vaccino ma sono più malalti in generale i bambini se vive meglio se vive lungo da prima ma i bambini hanno oggi un eccesso di diabetes di malaltia non sappiamo che cosa concretamente lo fa ma il vaccino farlo obbligatorio quando la ricerca farmaceutica non ha un controllo fuori dell'industria io penso che questo non si deve accettare sull'eutanasia io ricomendo questo libro per non trattarlo superficialmente l'eutanasia sull'eutanasia l'altra domanda ah sì l'encarnizzamento terapeutico sì la fine della vita il fine della vita questo è chiaro che anche così mi serve male di parlare solamente di questo interesse economico ma questo è oggi non si deve permettere non è solamente il medicamento o la vaccina non si deve permettere io penso questo è essenziale di parlarlo non si può permettere che la medicina l'assistenza sanitaria è così un negozio come oggi perché quando si fa questo si introduce un elemento che fa una distorsione quando oggi ha un paziente nell'ospedale che deve andare alla macchina di respirare e forse non ha una prospettiva di sopravvivere ma ogni giorno che è stato legato alla macchina ha una una catena di interesse che fanno negozio con questo questo non si può permettere perché la vita la bioetica è difficile è complessa non è una cosa così facile si deve fare questa macchina o no la iglesia cattolica ha detto già che non si è obbligato a fare una vita sostenuta artificialmente e questo è molto chiaro non si può essere obbligato ma se uno lo voglia si ha una possibilità tecnica io non voglio io non sono per la proibizione della gente ma il senso o la la discussione la la decisione decisione personale e della famiglia è emozionalmente implicata è una cosa che si deve rispettare e si può parlare di come si fa bene ma sempre nella bioetica non si può fare idealmente ma si può fare meglio questa è una cosa un'altra e quando si parla di tutta questa sono più grandi così grandi industrie che nel mondo hanno il finanziamento secondo di industria che sono le più potenti potenti la industria dell'armamento delle armi la industria bancaria finanziaria e la industria farmaceutica e questo è così e non si deve dimenticare questo quindi io non posso estendermi di più solamente dirgli che io ho visto nel monastero come si muoiono morire ho visto morire 20 monache e ho visto una cosa che nell'ospedale non l'aveva sperimentato e questo è come si può accompagnare la vita alla fine in un senso plenamente umano che io io voleva sarebbe un desiderio che nell'ospedale sì perché questo noi lo chiamiamo accanimento terapeutico lei ti chiedeva che no no che è anche una parte è una parte poi c'è la questione per esempio che abbiamo avuto in questi anni che ne so di casi non lo so di un tetraplegico che decide di morire l'eutanasia ah questa era la domanda no ma c'erano tutte e due le questioni sono entrambe sono entrambe l'eutanasia questo per esempio da noi non è permesso l'eutanasia io non sono d'accordo che ha una legge per l'eutanasia ma io non posso spiegare tutto ma farò una considerazione questo è quando io studio che cosa una cosa è il suicidio il suicidio uno si può suicidare e naturalmente questa è una decisione della persona l'eutanasia è un suicidio socialmente accettato e naturalmente io conosco gli argomenti per esempio in Spagna abito recentemente un uomo che ha fatto un video di se stesso e ha detto io voglio morire io ho una malattia e io non voglio soffrire di più la mia malattia non si cura e io voglio morire io faccio questo video perché adesso io prendo questo e mi muoio ma io lo farò solo e lo farò solo perché la legge in Spagna fa responsabile alla persona che aiuta di un crimine e la mia moglie adesso è alla piscina e il mio figlio è alla scuola e io lo faccio solo ma non lo voleverebbe facerlo solo sarebbe meglio per me e penso anche per la mia moglie e il mio figlio di farlo insieme ma io lo devo farlo solo come una denuncia perché io voglio che la legge e la Spagna è cambiata e ha fatto questo in prente del video e ha moglie è un grande discussione emozionale nella Spagna io capiscono che è un problema è un debatto ma quando io studio cosa che se dicono la gente dicono perché io voglio morire non è non è il dolore perché oggi ha una possibilità tecnica di fare confronto al dolore di alliviare il dolore e soprattutto e questo mi sembra il punto più interessante è soprattutto che si dicono la mia vita non è digna la mia vita non è digna perché io non posso andare indipendente io non sono autonomo io non posso andare alla toilette e mi devono facere tutto e questo è una indignità questo è un problema che cosa è una vita digna che cosa è una vita digna alla Germania io conosco bene il gruppo di padri di sindrome di Down e mi hanno detto di tanti anni di qualche anni fa quando questi genitori progenitori vanno al supermercato con il figlio che ha sindrome di Down si trovano e prima non passava mai ma adesso si trovano altri padri o altri gente che dicono questo oggi non deveva essere questo questo è un figlio ma questo è un figlio con sindrome di Down che oggi si può abortare e questo è una pressione sociale di eliminare i figli con sindrome di Down perché è una carica è una vita che non è digna perché non è autonoma che è una vita autonoma una persona che non può che ha in una siglia di ruedas per esempio una serie a rotelle questo è una vita per un altro personalmente io non dico che personalmente non si può capire così ma l'eutanasia è un'accettazione sociale che si può avere un senso di vita digna o non digna che dipende del grado di autonomia o dipende questo è penso io si bisogna un debatte sociale con molta profondità e anche una cosa nel nostro mondo con così grande diseguaglianza economica è il caso in Olanda che si permette l'eutanasia di persone che sono già grandi con 70 anni ma 70 anni nel mio monastero tu puoi vivere 30 anni di più 70 anni giovane con 70 anni ha l'idea che gli ha fatto una vita e non hanno queste famiglie non hanno soldi per tutti e hanno una giovane in la famiglia che deve studiare e la persona maggiore pensa se io disaparesco se io non disparisco la famiglia avrà una possibilità di aiutare alla giovane per fare una meglio l'estudio è una pressione sociale per la gente di età perché lo sapevi bene nella nostra società le persone maggiore maggiore sì come anciana la persona anciana non rimangono alla casa questo è un problema perché tutti vanno via vanno a lavorare dove ha una residenza sì ma come e come si paga questo è un problema no non si paga dell'estato non lo so come in Italia ma in la Catalogna questo è un problema veramente e si rimane alla casa si deve buscare una persona che lo fa è una carga e questa carga si ha la possibilità dell'eutanasia legale non perché la famiglia dicono tu devi fare l'eutanasia ma questa persona si vede a se stessa come una carga per gli altri e dicono sì facciamo così perché io ho già vissuto è una pressione per la persona più vulnerabile e si bisogna una discussione molto seria che cosa è dignità che cosa è una vita digna si bisogna un cambio della economia e della disigualanza se no questa è una pressione per la persona più vulnerabile questo è che io penso grazie allora io non so dove Francesco se c'è eventualmente un'altra domanda se c'è una ecco però due veloci le prendiamo insieme poi la risposta e le conclusioni perché capisco che è una cosa molto intensa molto forte però c'è anche la necessità poi un po' di decantare che abbiamo un pomeriggio ancora intenso e quindi prendiamo queste due domande volanti vorrei che ci parlasse del suo pensiero sull'aborto grazie bene e l'altra domanda breve io vorrei che approfondisse il suo pensiero sull'omosessualità ecco forse questo non è ora faccio pubblicità al libro potete leggere il libro lo intento di farlo perché la vita di un punto di vista religioso di un punto di vista credente è sacrale e io penso così io non penso la vita si può disponere io posso dire la vita fino da qui e non di più un'altra cosa io l'ho detto che io non voglio una legge che ti proiba di fare un suicidio a te perché tu con te io non voglio ma la mia cosa che io penso è meglio è di riguardare di guardare guardare la vita come un dono che non si dispone che io non controllo che io non faccio l'ha preguntato tu che no la vita così bene ma che cosa accadesce è la vita dell'inizio alla fine questo è che io penso ma problemi pratichi la mia posizione che è per la despenalizzazione dell'aborto non è quindi una posizione perché io penso che il bambino non è una persona o il fetto non è una persona o si può no è una posizione pratica e pratica e mi sembra meglio di parlare della sacralità della vida di fare testimonianza di questa sacralità di organizzare la comunità per accogliere le figli della persona che non lo può se non lo vuole tenere di fare tutte queste senza la legge dell'estato che ti poserà nella prigione e perché io penso questa è una ipocresia e io darò un esempio in salvadore nel salvadore honduras si hanno i due paesi oggi che hanno nicaragua anche ma il salvadore che hanno legge impulsata della chiesa cattolica che dicono l'aborto è nessun caso non si può fare punto no in caso di violazione non si può fare ma il problema pratico è come si sa quando un avorto è spontaneo o provocato non si può sapere naturalmente se tu fai un'operazione per farlo e si vede questo è chiaro ma se una donna va al medico e dicono io ho avuto un sangue e ho perduto il figlio come si sa se ha fatto una cosa per provocare questo o è stato veramente spontaneo non si può sapere medicamente anche non si può che cosa passa oggi al salvador la donna vanno con un avorto spontaneo dicono è spontaneo il medico se il medico non denuncia la donna come un possibile aborto provocato un'altra può denunciare al medico come un collaboratore di un avorto provocato e il medico adesso perde la capacità di fare il medico questo è vero è legge oggi il salvador perde la capacità di fare il medico per sempre e 40 anni alla prisione questo è vero e la donna 20 30 40 anni ma la donna fino a 30 si voleva con questa legge impulsata della chiesa cattolica nel salvador di fare una cosa veramente effettiva e quindi il medico è più di più anni che la donna ma la donna può stare 30 anni alla prigione per un aborto in El Salvador il medico non può riscare se il medico pensa questo forse è un aborto spontaneo ma io non voglio perdere tutta la mia vita io non voglio andare in prigione 40 anni il medico non pierde niente niente naturalmente il senso morale ma non pierde niente praticamente di dire può essere e questo comincia un'investigazione che alla fine porta forse la donna alla prigione e ha una campagna internazionale per 10-7 donne che si hanno in prigione e nel salvador precisamente per questo e che hanno un appoglio internazionale questo è una ma un'altra quando la iglesia cattolica che cosa fa quando la madre è con il figlio gravidanza e ha un cancer cancro cancro che cosa dice la chiesa cattolica oggi si può fare la chimioterapia o no lo sapete si può o no si può oggi il magisterio cattolico dicono si può ma se si fa si morirà sicuro il feto ma la chiesa cattolica dice oggi l'obgettivo non è di uccidere al figlio l'obgettivo è di salvare la madre quindi siamo appena desolato che il figlio sarà morto ma si deve salvare la madre bene ma che cosa dice non con cancro solamente io doi questo esempio per mostrare la complessità della cosa che cosa dice il magisterio cattolico quando la madre ha una insuffizienza cardiaca che se si fa la gravidanza a termino la madre può morire e se non muoge il cuore è sbagliato in un senso che la madre avrà problemi tutte le vite questo lo sappiamo che cosa dice la chiesa cattolica oggi dice che si deve andare con la gravidanza e ha fatto una monaca monaca della hermana mercedaria degli Stati Uniti ha permesso nell'ospitale di questa congregazione religiosa che si fa un aborto perché la madre aveva già quattro figli e i medici hanno detto con cada figlio il cuore è impeggiorato e si fa questo la medicina dicono che non si sopravvivirà e si sopravvivirà non sarà possibile di cuidare allo figlio e questa monaca ha detto io sono d'accordo che si fa questo e dopo è stata escomunicata e dopo lavora adesso con normalità questi si hanno casi specifici dove si mostra che il problema dell'aborto non è un problema così facile e io devo anche dire una parola dell'aborto dell'embarazzo la gravidanza ectopica si conosce che cosa è questo è che l'ovulo fecundato non va dentro dell'utero ma fuori dell'utero la gravidanza extrauterina bene extrauterina e questo oggi non sappiamo perché nella medicina ma è 2 o 3 per cento di tutta la gravidanza questo è molto prima era meno non si sa perché ma stress non lo sappiamo ma questo è 2 o 3 per cento che cosa fa la chiesa cattolica qui perché la cosa che dicono il magisterio cattolico con la cancro e la insufficienza cardiaca è la seguente nel cancro è un uccidere il bambino indirettamente e questo è un male meno è una cosa buona naturalmente ma è un mal menor un male minore un male minore è una conseguenza non voluta di una cosa buona che si fa che è salvare la madre con il caso dell'insufficienza cardiaca si dicono si deve uccidere direttamente si deve fare l'aborto direttamente perché la gravidanza è il problema e questo è attivo e non si può fare ma questo è ipocrita a un certo punto è problematico ma con il caso della gravidanza extrauterina che cosa fa la chiesa cattolica non abbiamo un magisterio ufficiale su questo tema perché questo tema è un problema cosa che si fa all'ospedale cattolico all'Italia all'Espagna in tutto il mondo si fa l'avorto naturalmente perché se no si muore il bambino e si muore forse anche la madre si fa ma è una sfida della teologia morale perché si fa direttamente come si risolve questo io penso che è meglio di accettare il principio della sacralità della vita come orizzonte desiderabile e la complessità come una realità e la male menore di non forzare alla donna a stare sotto la legge dell'estato che dopo come al salvador occasiona una circunstancia che è per la donna che non ha ricursi perché la ricca lo trova e lo fa ma la pobra non lo fa l'omosessualità e la omosessualità io ho un pensiero che non solamente è che la omosessualità l'ho dito già che la complementarietà di uomo e donna io la riconosco come una cosa bella e come una cosa che si bisogna per fare figlio io so che oggi si può fare di un'altra maniera ma biologicamente dichiamo questo chiaro è una cosa per me bella ma che cosa la esistenza dell'omosessualità della persona che ha un desiderio per un altro del stesso sexo questo non è una cosa del secolo XXI è stato sempre e io lo prendo come una una realità che è stato sempre e la chiesa anche il magisterio cattolico lo prende come una realtà ma dicono ma non si può fare questo è un segno che tu devi essere celibe continente non non esercire non agire la tua sexualità praticare la sexualità questo è crudele questo quando si accettano che tu non perché tu hai fatto una cosa male ma perché tu sei così ha questa attrazione per l'altra persona e l'altra può essere riconosciuta una riprocità ma si può dipendere la mano forse sì si può fare un abbraccio forse sì come si può fare un'esperienza di amore di Dio che è buono e mi ha fatto bene e mi vuole buono con questa idea quando io la tratto di applicarmela come se fosse la mia esperienza io trovo questo è crudele e che cosa si sbaglia se si dicono questo non è un problema qual è il problema teologico qual è il problema antropologico qual è il problema ecclesiale di dire che due persone si amano e questa è una festa per tutti quando con la fidelità io non penso nella sessualità che tutto va no io non penso così io penso che la sessualità è una forza molto profonda e che è orientata a fare questo compromesso per sempre e questo è una sfida come si fa perché io non so sia domani io penso sento la stessa cosa ma questo è una testimonianza che l'essere umano è così profondo è possibile perché il mio progenitore già ha detto che si hanno divorciato e per me fino ad oggi è sempre una cosa felice di vedere una coppia che hanno vissuto insieme 20, 30, 40 anni e mi sembra che sono felice è veramente un testimonio e per questo la mia teologia anche io scrivo e difendo non solamente che l'omosessualità non si deve discriminare nella chiesa o imponere 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 il celibato ma che il matrimonio omosessual per me è un sacramento è un sacramento perché perché io penso che cosa è santa che cosa è sacramentale quindi santa di Dio divina e nel matrimonio perché un sacramento è sempre una rendere visibile l'invisibile di Dio un sacramento come la definizione è Dio è fuori dell'espazio e del tempo come si fa presente nell'espazio e del tempo si fa con l'amore l'amore è sacramentale anche ma si fa con questa figure come il battesimo che sono veramente un'azione di Dio in mezzo a noi che cosa è però santa nel matrimonio è la complementarietà sessuale non può essere l'elemento il componente santo sacro del matrimonio non può essere la complementarietà sessuale cosa bella come è perché la cosa santa la cosa sacra deve essere una cosa che è in Dio che esiste in Dio perché se no questa sacralità che è testimonianza di qui in Dio non ha in Dio Trinità non ha una complementarietà sessuale questa è una cosa dell'espazio e del tempo e un sacramento mostra nell'espazio e il tempo una cosa di fuori dell'espazio e il tempo che è al di là presente questo è un sacramento la chiesa è un sacramento perché mostra una possibilità di vivere insieme come la comunione della Trinità fuori dell'espazio e del tempo e questo rapporto che è sacramentale è il senso teologico del sacramento quindi che cosa è sacramentale nel matrimonio la complementarietà sessuale non è in Dio non può essere il cuore della sacramentalità matrimoniale fare figli è una cosa bellissima è molto importante e pratica naturalmente ma questo non è in Dio Dio non fa figli fuori dell'espazio e del tempo quindi questa è una cosa bella una cosa umanamente admirabile ma non è sacramentale nel senso teologico che cosa è santa nel matrimonio è che una persona le dicono all'altra io mi dono a te liberamente amorevolamente gioiosamente mi dono a te come è possibile e mi dono a te no adesso solamente a domani e tutta la mia vita questo è admirabile questo è in Dio perché in Dio ha un amore di dialogo di rapporto di reciprocità che è l'essenza stessa di Dio questa è la sacra mentalità del matrimonio quindi io penso l'omosessualità può anche essere un sacramento allora voi avete capito che dobbiamo fare delle rinunce abbiamo dato tanto spazio a questo incontro perché credo che se ne capisca l'eccezionalità non solo perché è abbastanza raro che Teresa possa muoversi per venire a fare degli incontri addirittura in Italia come in questo caso anche perché in questa fase lei è impegnatissima capirete bene per le questioni legate al referendum in Catalogna e anche perché avremmo avuto per ciascun argomento da fare un incontro a sé però insomma voi avete dimostrato tanta attenzione tanta cura attraverso i vostri occhi attraverso i vostri sguardi e Teresa si è impegnata davvero anche con l'italiano per cercare di farci conoscere il suo pensiero credo che quest'impegno reciproco sia un tesoro che ora custodiremo al momento del pranzo ho messo l'immagine di questo libro perché credo che la cosa migliore per tante cose non dette o che vorreste approfondire sia andare direttamente alla fonte abbiamo portato anche il nuovo libro proprio fresco di stampa ancora non è libreria che è il libro di Teresa Fede e Libertà ecco quindi abbiamo nella nostra libreria l'opportunità di entrare ancora più in contatto con Teresa io Teresa so che appunto ci sarebbe un mondo di cose da dire ti chiedo così di andare sulle tue conclusioni di lasciarci un sapore un messaggio per concludere questo nostro percorso insieme brevemente ma io volevo condividere questo che per me è molto importante o più importante e io ho bisogno tre minuti per farlo questo perché io penso che la mia esperienza di Dio è un'esperienza che passa per il concetto forse si dicono che noi possiamo essere come canale di misericordia di Dio questa è un'espressione sicuramente conosciuta Dio è l'amore senza limite e noi possiamo lasciare questo amore e l'espazio e il tempo tra di noi attraverso di noi e nel mondo questa è una bella immagine ma mi piace di più una immagine che viene da una teologa del secolo XVII XVII questa è Maria di Agreda ha vissuto in Soria in Spagna una clarissa e ha fatto un'altra un'altra metafora per il nostro rapporto di Dio e questo è lei ha scritto sopra Maria la madre di Iesù e ha scritto in un senso molto originale e bello perché normalmente si dicono come Luca e l'Evangelo che Dio ha annunciato con Gabriella Maria e ha detto tu sarai Maria detto la sclava del Signore e andai via rapido ma Maria di Agreda ha detto no no la cosa non è così rapida perché Maria deve pensare Maria deve capire che cosa è questo come si può come io può dire sì a questo che mi viene proposto e che significa questo e fa una bellissima dissertazione sopra questo alla fine del libro di Maria di Agreda alla fine di ogni capitolo viene Maria di Nazarete come una figura literaria ma anche l'esperienza di questa monaca e le fa la critica del libro e le dice Maria di Nazarete ah questo è beono questo non so buono questo le fa la critica del libro è un'originalità di questa autrice questa teologa e in questo momento le fa la critica seguente questa critica le dicono Maria di Agreda tu hai capito bene che io e pensato che cosa mi dica l'angelo e che cosa questo significa ma non hai capito bene quando dicevo che questo mi ha passato a me e solamente a me perché sì in un senso biologico è successo questo è così ma Dio voglia o parla a tutti di noi donne e uomini in questo senso e no pregunte a Dio a noi tu vuoi essere con gravidanza sì impregnato vuoi essere incinta incinta di me perché incinta non è come un canale di misericordia il canale rimase stesso si è trasformato un imbarazzo una gravidanza è un'altra cosa una gravidanza per la biologia nove mesi per la teologia forse nove anni o forse nove non si sa e una gravidanza ti cambia radicalmente e per la vita non è una cosa così leggera e una gravidanza cosa che più bella di questo è quando io come posso io testimoniare Dio nel mondo nel tempo e nel spazio io non lo posso testimoniare di una forma teorica deve essere con il corpo deve essere con tutto il mio essere e deve essere come una nasciuta come una parturire nascita e questo Dio questo Iesu che io posso testimoniare si deve sembrare a Dio naturalmente ma anche a me come un figlio non è una possibilità che io posso dare Dio come un canale e Dio viene e viene per te e viene per me non è così è una metafora organica è una metafora femminile è una metafora del corpo è una metafora ginecologica insomma perché anche il nome della virgine noi diciamo la madre di Dio sì in italiano la vergine la madre di Dio ma il nome classico della teologia è teotokos e teotokos non è teometer perché questo è greco e in greco madre è meter perché no teo teo è Dio teo metter la madre di Dio ma il nome che è discusso al concilio di Efeso nel secolo 5 non è teo metter è teotokos e tocos io non lo so se in italiano si fa servire la parola tocologia perché in spagnolo si fa in catalano tocologia è la scienza del parto la medicina del parto una cosa è la ginecologia della donna l'altra è la obstetrizia della gravidanza ma la tocologia è il parto e il parto teotokos è la partirenta colei che partorisce Dio colei che partorisce Dio questo è Dio e questa è la mia idea quando fino che Dio nel ventunesimo secolo dopo della modernità dopo dell'autonomia della persona dopo della libertà personale non può essere un Dio che viene dall'alto non va più non si può capire non è un Dio che può espressare che cosa si dicono nel Vangelo deve essere solamente un Dio che non può esistere nell'espazio e nel tempo o solamente può esistere nell'espazio e nel tempo se io se tutti noi lo partoriamo e quindi esiste di una maniera che non è assoluta non è che io trasmito Dio come Dio e lo trasmito come Dio e io sono e questo è una umilità anche che fa che la verità che esiste e per me è una cosa obiettiva è Dio ma io non la ho io posso avere fede fiducia io posso essere un membre dell'Eglesia ma io non ho la verità perché solamente può riflettere la verità con questo rapporto personale con la verità che è Dio e questo mi sembra una maniera adeguata e mi sembra anche una buona maniera di pensare la mia testimonianza di Dio nel mondo con un imbarazzo con una gravidanza e con questo che noi aiutiamo l'uno all'altro a parire e questa teologa parla così anche perché parire pare uno ma gli altri le donne tutti aiutano per la paritura noi aiutiamo l'altro a parire questo Dio questa realità di presenza di Dio ma la cosa è sempre strettamente personale e si deve cambiare la persona quando lo fa io li animo a tutti a diventare incinta di Dio che bello grazie di tutto ci teniamo nel cuore questo meraviglioso finale questa espressione essere incinta di Dio Teresa Furcades grazie grazie a Cristina grazie a tutti grazie a tutti